Il Teramo centra il secondo successo consecutivo e se quello di San Marino di una settimana fa poteva sembrare poca roba, questo con la Reggiana ha un peso e un sapore diverso. Primo perché ha ottenuto contro una squadra di prima fascia, secondo perché ha visto il ritorno al gol del bomber principe del Teramo, Andrea Bucchi, e terzo perché per la prima volta il Teramo in casa non ha subito gol. Di questi tempi non è poco. Il 5-3-2 di Vivarini dunque dà le risposte che tutti volevano, una solidità nuova in difesa e una squadra un po' più corta rispetto al passato. A dirla tutta però c'è anche la Reggiana che è stata una mezza delusione, squadra troppo leziosa, compassata e con poca cattiveria agonistica. In queste categorie per vincere i nomi non bastano e ci vuole altro. L'avvio di gara è promettente, Gian Giulli testa il grado di attenzione di Tonti dalla distanza, il Teramo scalda i motori e trova quasi subito il gol partita, bell'azione di Scipioni sulla destra che crossa, tocco di Donnarumma e la zampata vincente di Bucchi e di quelle che non perdonano. La Reggiana accusa il colpo, il Teramo potrebbe raddoppiare con Donnarumma impeccato da Masullo, ma l'attaccante calcia addosso a Feola in uscita. La Reggiana bozza una reazione, ma è Gian Giulli il più intraprendente, il centrocampista Granata con due conclusioni sfiora il bersaglio grosso. Il Teramo è parrone della situazione, al 41esimo angolo di Di Paolo Antonio e colpo di testa di Speranza che dà l'illusione del gol. Allo scadere la Reggiana trova anche la via della rete con Bruccini, ma l'assistente segna la posizione irregolare del Granata. L'ultimo sussulto al 47esimo, con Sega che manda alto da buona posizione. La ripresa lega le emozioni con il contagocce, fino a quando Buonaiuto da poco in campo non impegna Feola dopo un'azione personale. Al 35esimo la Reggiana avrebbe anche la palla buona per pareggiare, ma Tremolada sbaglia l'alzo della conclusione, dà ottima posizione nel cuore dell'area terramana. Le ultime due emozioni le regalano prima di Paolo Antonio da una parte e poi Sinigaglia dall'altra, ma il risultato non cambia, il Teramo torna ad espugnare il Bonolis e la classifica torna a farsi interessante.